Maurizio Pogliesi porta in faccia i segni della battaglia col Fosinone. Diciamo che il mio è stato degli scontri quello un po' più fortuito, perché avevo perso la palla. È naturale che l'attaccante poi si avventi per poter fare il gol. Alla fine io durante la partita non me ne sono neanche accorto, perché mi sono rialzato subito. Se non mi avessero detto che mi ero spaccato non me ne ero neanche accorto. A di là del risultato, Pisa Fosinone è stata soprattutto una partita che ha fatto capire bene a tutti che campionato sarà a livello agonistico e anche a livello di difficoltà. Sì, ma l'avevamo già visto anche l'anno scorso, trovi delle squadre dove ci sono giocatori importanti e fra virgolette anche ignoranti. Però bisognerà abituarsi in fretta senza giocare anche contro questa gente, perché si troveranno sempre più spesso. Domenica si va all'Aquila, un'altra gara importante tra due squadre molto ben attrezzate. Sì, ha vinto con una squadrona sulla carta e quindi andremo a affrontare sicuramente una buona squadra. Ora da oggi prepareremo al meglio la partita, vedremo di conoscerli meglio e cercheremo sicuramente, come facciamo sempre, di dargli delle difficoltà.